E' la squadra più giovane di reazione a catena di quest'anno, la triade, tre ragazze di 19 anni, molto brave, l'avete visto. Adesso proviamo a prendere insieme a loro l'ultima parola. Partiamo da bocca, CR e finale, è il terzo elemento. Bocca alla bocca, la bocca della verità, croce sulla bocca. No, anche per il segreto. Andiamo avanti. Bocca, creme, creme per la bocca, crema, 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 bocca. C'è la bocca della verità, c'è la bocca, la bocca anche tipo come ingresso, la bocca di una caverna. la bocca delle cripte, credere, creare, creare con la bocca, con la bocca si dicono le parole, si canta, la bocca delle cripte, creare con la bocca, con la bocca si dicono le parole, crede lo stomaco, però a bocca, potrebbe essere, entrata, ingresso, creare, cronescere, credere, credere, prendere per la bocca, prendere per la bocca, no, prendere per la gola, no, no, come, farti credere qualche cosa che è giusto, ecco il gong, e compriamo il terzo elemento, ok, allora dimezziamo, sul tavolo ancora 14125, scopriamo il terzo elemento, meteora, meteora, non so, allora ci sono i cratere, 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 fanno i cratere, perché la bocca è un cratere, si esatto, e la meteora quando cade fa un cratere, ok, però andiamo comunque avanti, comunque avanti, però teniamo la meteora, che cosa è una meteora? è un nastro, allora, un nastro è, diciamo, possiamo dire, grande, una grande bocca, no, quella è larga, è ragione, è ragione, è ragione, è ragione, tempo scaduto, allora Eleonora, quale parola vi giocate? cratere, togliete pure le cuffie, come leghiamo con bocche, come con meteora, allora, il cratere è una bocca, ed è creato dalla caduta della meteora, il cratere è una bocca, in che senso? che è un foro, è un vulcano, la bocca del vulcano, andiamo a vedere se è proprio questa l'ultima parola di stasera, quella che vale 14.125 euro, la parola che lega bocca e meteora è è cratere? Sì! 14.125 euro,